Assume un ruolo chiave nel futuro del nostro Paese, non solo come cultura del risparmio e del futuro per le nostre generazioni, ma anche nell'ottica degli investimenti che i fondi pensione possono immettere rispetto all'economia reale. E qui si parla molto di temi legati ai tassi, all'inflazione, alle aspettative sulle prossime mosse della BCE e della Fed, ma i fondi pensione hanno un ruolo determinante anche nel contesto Italia, dove ci sono moltissime imprese che hanno bisogno di circolante e dove i fondi pensione possono avere un ruolo strategico soprattutto sull'economia di filiera e sul credito di filiera, che è un credito sano che oggi ha dimostrato di influenzare addirittura le politiche economiche globali con il supply chain index che la stessa Fed ha creato recentemente. Quindi come Asso Previdenza abbiamo il dovere di supportare i fondi e di coordinare questo rapporto tra i fondi pensione e l'economia reale e tutti gli stakeholder che parteciperanno al tavolo di discussione per rendere il settore e la previdenza importante per il futuro del nostro Paese e semplificare molte procedure e norme che stanno inibendo ad alcuni fondi di poter crescere.